il vero nome di questo pittore fiorentino era andrea d'agnolo di francesco lanfranchi e il soprannome del sarto deriva dalla professione del padre il suo stile particolare si pone tra quello dei grandi maestri del rinascimento e l'avvio della maniera moderna secondo le vite scritte dal vasari andrea iniziò il suo apprendistato nella bottega di un orafo dove manifestò subito la sua inclinazione al disegno è però nella bottega di piero di cosimo che l'artista continuò il tirocigno formando definitivamente la sua personalità si ritrovò a vivere un periodo particolarmente felice per la città di firenze andrea in quel periodo passò molte ore a copiare e studiare i cartoni di michelangelo e di leonardo per le battaglie da affrescare nel salone dei 500 in palazzo vecchio il suo stile equilibrato e pieno di grazia fu inoltre molto influenzato da raffello che in quegli anni si trovò a soggiornare a firenze tra i coetanei colleghi che vissero in quel clima fervido di idee andrea si ritrovò in particolar modo con francesco di cristofano detto il franciabigio con lui strinse un'amicizia che durò qualche anno e insieme presero una stanza in piazza del grano intanto l'artista come tutti i pittori dell'epoca si iscrisse all'arte dei medici e degli speziali nel 1518 andrea sposò lucrezia del fede la giovane vedova di cui l'artista si era così invaguito da farla diventare il modello ossessivamente privilegiato per quasi tutte le figure femminili raffigurate nei suoi quadri di soggetto sacro vasari arrivò a descriverlo addirittura come debole e indifeso perché succube della moglie pensate che nel ventesimo secolo vari studiosi cercarono di creare un legame tra questo ipotetico carattere debole e il suo stile caratterizzato da una presunta mancanza di vigore ma tutto questo approccio è privo di fondamento dato che come spesso capita il resoconto che il vasari ci ha lasciato è del tutto inaffidabile andrea proprio nell'anno del matrimonio si recò al servizio del re di francia francesco primo ma quello al castello di fontainebleu fu un breve soggiorno che terminò già nel 1519 pare infatti che la moglie lo richiamasse in patria con una serie di lettere ad ogni modo chiesta licenza al re l'artista tornò a firenze per restarci giusto il tempo necessario a sistemare qualche faccenda e con la promessa di portare con sé oltre alla moglie anche opere di grande valore per la collezione del sovrano francese andrea partì alla volta di firenze e da lì invece non si mosse mai più fu un eccellente decoratore ad affresco ma dipinse anche splendide pale d'altare e notevoli ritratti allo stesso tempo è anche ricordato come uno dei più bravi disegnatori del rinascimento molto della sua arte ha anticipato gli esperimenti manieristi di pontormo e rosso fiorentino tra gli allievi più bravi di andrea del sarto andrea del sarto morì di peste il 29 settembre 1530 nonostante il paragone con giganti del calibro di raffaello e michelangelo non gli abbia giovato andrea è comunque uno dei più grandi artisti del suo tempo se è vero che per grazia e monumentalità si avvicina molto allo stile di raffaello è altrettanto vero che la sua attenzione per il colore e per la resa atmosferica non ha uguali tra i pittori fiorentini dell'epoca se il video ti è piaciuto lasciami un like qui sotto condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento una critica ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video ciao